cantine silvestro aperte a casoria il tradizionale brindisi fine anno nando auguri di buon anno la cantina silvestro augurissimi bene tutti i telespettatori della web tv un anno tipo bene buon anno buon anno a tutti auguri buon anno di castoria vero l'ingegnere salierno e la professoressa salierno bene buon anno instagram buon anno è un tavolo dimmi dimmi allora un omaggio fatto da copa patricelli cash and carry che qua vicino a noi nostro carissimo amico nicola di copa patricelli bene i suoi lecca lecca eccolo qua bene lecca lecca per tutti buon anno come patricelli l'abbiamo già detto è il nostro vicino ma con la carta già abbiamo stappato fare qualche altro la facciamo un'altra apertura dai un'altra persona bene bene prendi una bottiglia dai prendi una bottiglia prendi una bottiglia aspetta aspetta eccola 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 anche per gli amici di instagram la carta di nano tv aspetta fammi fare una carrellata di saluti e abbiamo anche qualche consigliere comunale perché lei è tua figlia addirittura non lo sapevo complimenti e qui castagna ragazzi per tutti e qui No, non ti vuoi diretti, eh? bene vai auguri buon anno buon anno voglio un buon anno grazie bene vieni nonostante che è più calda però è più tossa non va non va prima ci lecca vabbè prendi quella dai è più calda dai è più calda vai eccola 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 risentiamo bene 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 una garanzia 3 1 2 bello vai bene buon anno 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 ma